Dimmi che hai arrestato Gates No, magari Insomma, Castle non so come, ma lui ha ucciso Kim Foster e ucciderà ancora Quindi niente sviluppi, di solito mi chiami con delle novità Hai chiamato per avere un mio parere Beh, non la metterei esattamente così, ho chiamato solo per... Invece è così? Speravi che avessi una delle mie fantasiose teorie o magari qualche intuizione geniale che ci porti a risolvere il caso Ce l'hai? Allora? No, niente di niente Ho solo bisogno di una prova, qualcuno con cui ha parlato, qualsiasi cosa